Buongiorno, oggi iniziamo così, oggi iniziamo lentamente, perché fuori piove, c'è ancora buio, ci hanno fregato, buongiorno a tutti, eh sì, ci hanno fregato, hanno detto che con il cambio dell'ora avremmo avuto più luce, più tutto, invece questa mattina c'è buio, abbiamo dovuto accendere le luci in redazione, abbiamo dovuto accendere la luce prima di entrare in ufficio questa mattina, pensate che ho pensato dentro di me, ho andato a controllare, che mi fosse svegliato un'ora prima, e invece no. E vabbè, allora buongiorno a tutti e good morning Milano, anche a voi, in questa mattinata uggiosa, piovosa, fredda, scaldiamoci, perché abbiamo bisogno tanto tanto di stare vicini vicini, per cercare di aiutarci, perché questa mattina veramente non è facile, è un mercoledì, è il 3 aprile, è la settimana corta, sì, abbiamo iniziato un giorno dopo, ma è pur sempre la settimana che arriva dopo da giorni di vacanze, siamo pesanti, stanchi, abbiamo già voglia di weekend, secondo me, o meno così. Ah, forse sto parlando troppo di me stesso e non è quello che pensate voi? Ah, può essere effettivamente. E allora ve lo chiedo, voi cosa pensate? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, iniziamo così, piano piano, sottovoce, come piace a noi, così, lentamente, senza troppi urli, senza troppe cose, e poi pian pianino prendiamo l'argo, e ve lo dico, e ve lo prometto, perché tanto comunque l'energia per uscire è, dobbiamo trovarla, e se non ve la do io, chi ve la dà? Buongiorno, buongiorno Milano, noi siamo pronti a partire con un po' di musica. Ivan Graziani con Agnese, come faccio adesso ad entrare in questa canzone e dirvi qualcosa di intelligente? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, grazie mille ad Alberto con il suo buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, hai ragione, dice Alberto a me, cioè lo dice a me tramite voi, hai ragione, mercoledì buio e piovoso, e con tanto sonno, e non aiuta sicuramente questo clima, che bello però Agnese, del dimenticato Ivan Graziani, ebbene, sono contento che lo stiamo riscoprendo, io l'ho sempre detto, non lo conoscevo praticamente, grazie all'operazione fatta dal figlio, anche con la pesce di Martino, con tanti altri, insomma, sono tornato a ricordarlo in realtà, perché l'avevo sentito, era qualcosa che era passato nella mia vita, ma non mi ero soffermato, ecco, invece sono ben contento di esserci tornato, anzi, rimaniamo su questa canzone, su Agnese di Ivan Graziani, perché qualche giorno fa, Anna Lu, che è un influencer, che racconta, lei è una cantante, un'insegnante di canto, ma racconta anidoti sulle canzoni, ebbene, qualche giorno fa ha fatto proprio, ha fatto un reel su Instagram, che parlava di questa canzone, perché sentite un po', non lo sapevo io, sentite un po', questa è Ivan Graziani, ok, con Agnese, quella che abbiamo appena sentito, ok, di vedere gente, non c'è più nessuno, che mi aiuti un po', non c'è più nessuno, e ci chiederemo, ma chi ha copiato chi, quindi? Com'è che questa cosa? Arriva prima Graziani, Phil Collins, sempre i Mindbenders, 1965, allora sono loro gli originali, evidentemente, e qui tutti hanno copiato da loro, siete sicuri? Sonata numero 5, opera 36, di Muzio Clementi, 1770, ed ecco come la musica è questa cosa qui, una piccola sonata del 1770, e diventa uno dei pezzi più belli della musica italiana, appunto Agnese di Ivan Graziani, dei pezzi dimenticati di altri gruppi passati, non dico che maleonti, quegli altri, Romeo e Giosi, che fossero, ahimè, mi spiace per i due, ma nessuno se lo ricorda, tra parentesi Agnese, che mi ricorda Alberto in questo momento al 3317853555, e anche, oltretutto, nella colonna sonora del film appena uscito con l'albanese e la Raffaele, un mondo a parte, quindi ecco, come è tornato alla grande, per fortuna anche, Ivan Graziani, che ha preso questa melodia, chissà se lo sapevo, oppure ha sentito quella di Phil Collins, oppure ha sentito quella dei Banders, insomma, sta di fatto che dal 1770 arriviamo al 2024, 2024, pensate la musica cosa è capace di fare, è indistruttibile, indistruttibile, passa tutte le ere, come sapete cos'altro passa tutte le ere? Il traffico, eh sì, Parlemmo c'è un problema, il traffico, diceva qualcun altro, no, in un altro film, ricordo Johnny Stecchino, ecco, anche Milano ha questo problema, il traffico, anzi, il traffico, il traffico, sì, il traffico di Milano, beh, non c'è sempre un casino, ha sempre in giro tutti quanti che non sanno dove andare, e allora per capire dove andare, sai cosa c'è? C'è Luce Verde, che adesso li ascoltiamo, ci raccontano tutto quello che c'è da sapere sul traffico, così nessuno di noi rimane imbottigliato, tac, Luce Verde, vai! One Republic alle 7.20 qui su Christian Radio, Good Morning Milano, ben ritrovati, allora si sta un po' alzando la luce, non il sole, ma la luce su Milano, continua questa giornata così un po' uggiosa, anche se dovrebbe smettere di piovere, le sprovisioni danno temperature in rialzo intorno ai 12 gradi per il momento, ma dovrebbero aumentare ancora di più, e nuvoloso, però insomma qua, sapete, ve l'ho già raccontato mille volte, non ve lo sto a raccontare, che insomma tutto un po' così complicato, non è detto che ormai le previsioni del tempo si capiscano, no? Comunque, parliamo di San Siro, o meglio, parliamo di Vasco Rossi, o meglio, parliamo di Beppe Sala, o meglio, parliamo di tutte queste cose messe insieme, sì, perché sapete che il nostro sindaco è bravissimo nell'arte di farsi sempre amici tutti quanti, nel senso che sappiamo le polemiche che ci sono in giro sui discorsi dei concerti a San Siro, troppi, troppo vicini, troppo in contemporanea tra la Maura, lo stadio e l'altro ipodromo, quello diciamo di piazzare l'otto per intenderci l'ipodromo quello vero, scusate, non me ne vogliono quelli della Maura, sta di fatto che cosa fa Sala, cosa pensa di fare bene, per mettere così un po' di benzina sul fuoco, omaggia Vasco Rossi per le 36 volte a San Siro e dice Vasco Rossi per 36 volte a San Siro, che legame con Milano, gli conferisco la pergamena della città. Benissimo, una lettera del sindaco che da fan ripercorre le tappe milanesi del rocker di Zocca, il suo primo concerto al Meazza nel 1990, dopo i mondiali, ed è quindi arrivato il momento di restituirgli qualcosa di simbolico. Benissimo, non si faranno aspettare ovviamente le polemiche su questo, perché adesso Vasco, io lo dico anche da grande fan del Blasco, benissimo, tutto bene, grandissimi i suoi concerti, andrò al concerto quest'estate a sentirlo sicuramente, ma sappiamo che è anche un po' divisivo dal punto di vista dell'affluenza e dell'occupazione della zona da parte dei fan del Blasco, che sono i migliori, devo dire la verità, nel senso che sono, io ne parlo perché ne vedo tanti, noi abbiamo uno studio veramente vicinissimo allo stadio di San Siro e quindi vediamo spesso appunto arrivare tutti quelli che vanno ai concerti così. Quelli del Blasco, devo dire, sono veramente una marea che arrivano giorni prima, bivaccano, stanno qui, cioè praticamente occupano la zona, però sono i più belli, c'è poco da fare, sono uniti, colorati, anche rispettosi, devo dire, nonostante tu li guardi, cioè no, come dire, il brutto ceffo col chiodo, dice oddio, chissà cosa farà, e invece nonostante le 800 bottiglie di birra che si porta dietro, le riprende, le botta via, le porta in giro, quindi devo dire che su quello i fan del Blasco sono molto molto bravi. C'è da dire che però, insomma, 36 volte a Milano, mai che venissero per una volta e basta, se ne fa 5 o 6 in contemporanea, cioè di seguito, è una situazione che in questo momento, con tutte le polemiche che ci sono, secondo me questa roba della pergamena a Vasco Rossi, cioè il premio a chi ha fatto più baccano, diciamo, tra molte virgolette, nella zona, non credo che i comitati di quartiere la prenderanno benissimo, secondo me c'è un altro bell'appiglio dato ai comitati per attaccarsi e per rivendicare alcune cose sacrosante, tipo i concerti La Maura, che non devono esserci, altre ancora più sacrosante, cioè la zona che venga presidiata e che venga chiusa decentemente al traffico, ma senza però che questa chiusura comporti il fatto che chi lavora qui, chi abita qui, chi deve venire a trovare i parenti qui, già diventano giorni difficilissimi, anzi, scusate, mesi, perché inizieremo a fine maggio con i concerti e andiamo avanti fino a oltre metà luglio, quindi capite che i concerti quanto tempo tengono in mezzo tra l'ipodromo, lo stadio e La Maura, quindi, insomma, diciamo che non è proprio il momento giù, darglielo a settembre questa pergamena, darglielo alla fine dei concerti, così almeno c'è quasi un anno prima che arrivano le polemiche, invece no, Sala, tu sei fan, tu sei il sinnaco, decidi tu, però io te l'ho detto, poi decidi te, io te l'ho detto. Adesso pausa, Gianna Lannini, sei nell'anima. Tons and I, Dance Monkey, povera Tons, che ha problemi di muffa, e lo dice sempre in questa canzone, muffami, muffami, mi spiace, ci sono dei bei prodotti però in giro, anche se mi ricordo che qualcuno ci aveva, se non ricordo male, Nello, ci aveva detto una volta che anche con l'accetto si possono fare miracoli, se non ricordo male, con la candeggina, con la candeggina si possono fare miracoli, quindi non necessariamente andare a comprare i prodotti per la muffa, ve lo ricordo sempre. Questa canzone è sponsorizzata da Saratoga, no, non è vero, non è vero, non è vero. Comunque, da Milano, Corriere Milano, leggo un titolo che come al solito, il problema dei titoli è che o li fate che abbiano un senso oppure scrivete titolo e basta, anzi, qui inserisci un titolo che è meglio, perché a volte ci sono dei titoli che fai veramente fatica a comprendere, le foto non aiutano e quindi poi tu vai a leggere l'articolo e dici, vabbè, anzi, poi se sei pigro non vai neanche a leggere l'articolo, chissà cosa vuol dire ma chi se ne frega vado avanti. Se un minimo, se curioso, pure come me, sei costretto a farlo perché sono qui a raccontarvi queste cose vai a leggere. Corriere della Sera Milano allora, il titolo dice riapre il passo del Foscagno e Livigno 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 torna accessibile l'esperto due punti aperte di virgolette ora con l'anticiclone africano a Milano toccheremo i 23 gradi cosa vuol dire? Cioè cosa c'entra? Che l'anticiclone africano porta i 23 gradi a Milano e l'esperto dopo che mi hai detto che il passo del Foscagno e Livigno torna accessibile allora evidentemente c'era il passo del Foscagno e quindi Livigno era chiuso e non si poteva andare per via delle nevicate credo poi c'è una foto sotto dove c'è credo una una pista da sci cioè no non credo è una pista da sci perché ci sono anche la funivia sopra che ci passa fatta appunto a credo Livigno ma è giallina è giallina cioè vi sicuro che se la guardate sembra un deserto africano quindi uno la collega con il titolo con scritto l'anticiclone africano e non capisce cosa che stavano sotto in più a destra c'è un'immagine del Duomo così col sole io vi giuro non ho capito nulla dopo di che ho capito che cosa è successo allora il titolo era dopo la nevicata riapre il passo del Foscagno e Livigno torna accessibile eh ho capito dimmi dopo la nevicata il meteorologo dice ora l'anticiclone africano con queste temperature che si sferranno i 23 gradi oh mi hai tolto Milano dal titolo e quindi è già più chiaro cioè quindi parliamo della Lombardia e ha senso e infatti dopo il maltempo di Pasqua e Pasquetta riapre quel passo lì il passo del Foscagno e Livigno torna accessibile la via di collegamento è stata riaperta martedì mattina alle 8 dopo la chiusura del giorno prima per le forti precipitazioni nevose i tecnici stanno ripristinando tutto anche la corrente elettrica quasi 60 cm di neve e tutto torna bene dicono molti che infatti ecco perché la foto è così perché la curiosità che caratterizza Livigno in questo momento è che c'è la possibilità di sciare sulla neve rossa o neve gialla perché perché le sabbie del Sara portate da un ciclone si sono fuse con la neve che andata giù quindi la neve è rossiccio gialla perfetto quindi la foto non era sbagliata aveva un senso e tutto questo cosa dice che invece il maltempo adesso finirà e quindi con l'arrivo dell'anticiclone africano si sfioreranno temperature molto alte anzi a Milano si arriverà oltre i 23 gradi allora capisco che non potete fare un titolo così lungo però raga neanche così corto perché io veramente non capivo assolutamente niente e insomma dateci una mano vi prego dateci una mano Drun Drun Notorious 7.41 minuti Crystal Radio Good Morning Milano come state? vi state svegliando anche voi come si sta svegliando questa mattinata questa giornata uggiosa che però dovrebbe rivelarsi la prima di una lunga serie di giornate calde boh così almeno dicono almeno dicevano gli esperti mi piace tantissimo quando usano la parola gli esperti che non sono chi sono non sono nessuno comunque una piccola polemica parte invece grande polemica in questo momento sulla storia del distributore di benzina sopra i pozzi dell'acqua leggo da Milano Today cosa succede? il comune di Milano aveva dichiarato di volersi riprendere l'area ok? di una zona in via di emissaglia Grattosoglio via di emissaglia ok? cosa succede? no al distributore di carburante sopra al pozzo di acqua potabile e questa la piattaforma diciamo desiderata il punto di partenza di una manifestazione che si svolgerà l'8 aprile in piazza della Scala oggetto del contendere la nuova pompa di benzina che dovrebbe sorgere in via di emissaglia in un'area di circa 2000 metri quadrati che il comune di Milano diede in permuta a Kuwait con l'autorizzazione per realizzare l'opera nel 2018 pensate furono anche avviati i lavori in contatto di abbattimento di alberi ma un gruppo di cittadini fece ricorso al Tar e lo vinse nel 2019 perché i lavori furono bloccati non si possono edificare per legge distributore di carburante sopra i pozzi di captazione dell'acqua potabile che vi dico la verità non è che mi sembra una cosa così stupida nel senso con tutto il posto che c'è con tutto lo spazio che c'è proprio sopra il pozzo dove vai a prendere l'acqua potabile di fare un benzinaio che adesso va bene tutto allora io ho avuto anche la macchina a metano quindi so che in realtà le cose sono sicure non ti esplode però anche lì non è un problema di sicurezza arriva come si chiama l'autocisterna carica la benzina non carica la benzina le macchine sopra il terreno va giù la roba capisco sì ci fate la soletta sicuramente che non sarà la soletta che avete in casa voi ma sarà la soletta di qualche metro di cemento che divide quello che succede sopra da quello che succede sotto ma ripeto con tutto lo spazio che c'è proprio lì devi andarlo a fare cioè non si sa mai cosa può succedere va giù delle gocce delle gocce va giù uno sversamento di benzina si rompe un tubo ma qualsiasi cosa ma poi ripeto con tutto lo spazio che c'è proprio lì devi farlo il benzinaio sta di fatto che il tar appunto dà ragione ai cittadini nel 2019 e quindi tutto bloccato ma ovviamente il tar fa rima con ricorso quindi c'è un altro ricorso al tar che riapre tutto quanto e quindi sembrerebbe che appunto apparenzi poi questi ricorsi che sono portato ad avere un'area che fa schifo adesso un'abbandonata che non funziona cioè brutta che andrebbe risistemata ma sembrerebbe che invece si riparte con i con i lavoro eh sì perché sembrerebbe che ci sia una trattativa in tal senso tra il comune e Kuwait ma quindi a questo punto dicono eh no eh no però perché allora il comune dica di no di nuovo perché insomma c'è quella sentenza del tar comunque se non ci avete capito niente come me perché ho capito poco se non che non capisco perché andare a fare un benzinaio sopra a un pozzo di captazione dell'acqua potabile con tu cioè allora è vero che ce ne sono tanti di pozzi di captazione a Milano è vero è vero però come dire disposti non so come dire ti disposti non lo fai lì lo fai dall'altra parte adesso ci saranno delle misure non so lo puoi fare 300 400 500 metri più là lo fai su un altro viale adesso non è tutto cioè ci sono di benzinaio a Milano no nel senso lo sposti dall'altra parte capisco le ragioni di Kuwait ma capisco anche molto bene le ragioni dei cittadini comunque tutto questo perché? perché questi cittadini saranno nostri ospiti nei prossimi giorni quindi torneremo su questo tema sempre qua a Good Morning Milano perché ve la raccontiamo la città anche e soprattutto con i protagonisti di questa grande Milano Queen another one by the dust in the dust questa traprendesi è stata la canzone che mi ha fatto innamorare del suono del basso una delle poche canzoni dei Queen con la firma di John Deacon appunto tra gli autori della canzone bassista dei Queen e si sente infatti sentite che giro è una di quelle canzoni che mi ha fatto innamorare del basso e mi ha portato a uno giovane Fabio che suonava il basso e lo suonava per due ragioni lo suonava e qui anzi saluto un carissimo amico che ogni tanto ci ascolta la prima ragione per cui il piccolo Fabio suonava il basso era questa canzone la seconda era la grande stima che già all'epoca avevo per un bassista dal nome Saturnino che ancora oggi è in mutata e trovo davvero uno dei più grandi musicisti bassisti che abbiamo in Italia pensate ero quello che al concerto di Giovanotti andava lì con tutte le ragazzine che urlavano Lorenzo Giovanotti sei il mio mito e io urlavo Saturno 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 perché volevo parlare con Saturnino per fortuna e devo dire grazie Saturnino ho avuto la possibilità poi da più grandicello anche di poterlo intervistare più di una volta è sempre molto disponibile quindi un saluto al grande Saturnino che so essere sempre molto attento anche a questa città tra parenti lui è uno di quelli che è arrivato in questa città non è un milanese natio qui non è un indigeno milanese ma è uno di quelli che secondo me proprio rappresenta al meglio la milanesità dello stare in questa città uno che se la sa vivere bene in questa città quindi sono molto sempre contento di vedere anche le sue stories su Instagram di quello che racconta di quello che fa racconta spesso anche cose molto interessanti nel mondo della musica seguitelo comunque Saturnino grande bassista un saluto al Saturno una canzone quella Another One By The Tusk che è iconica iconica all'indesca potenza tu subito la riesci a collocare con quel Queen quella canzone e tante altre ovviamente ma insomma anche quella come ormai è iconico l'oggetto che abbiamo in mano quel maledetto o amato chissà smartphone adesso non si chiama neanche più telefonino non si chiama neanche più cellulare si chiama smartphone che abbiamo in mano perché vi dico questo perché pensate oggi che è il 3 aprile nel 1973 fu fatta la prima telefonata da un cellulare portatile pensate una roba da qualche chilo pensate i primissimi cellulari portatili avevano la cornetta un cellulare vero e proprio ma avevano una borsetta attaccata dove dentro c'era la batteria questa cosa la ritrovate anche se andate a vedere vecchi film o vecchi telegiornali vecchi cinegiornali cosa del genere perché anche le telecamere portatili avevano la telecamera e poi a tracolla dall'altra parte avevi la batteria della telecamera perché erano così grosse le batterie che erano sì portatili ma portatili nel senso che venivano messi in una valigetta e ti portavi in giro fondamentalmente un paio di batterie della macchina ecco quella roba lì pensate adesso invece dove siamo arrivati comunque nel 1973 appunto con questo chilata di telefono fu fatta la prima telefonata ovviamente erano telefonate di prova diciamo costavano uno sproposito funzionavano su delle reti che adesso non esistono neanche più prima ancora del GSM per intenderci prima ancora dell'ETAX ancora prima linee che adesso non esistono più appunto adesso siamo al 5G alla soglia del 6G con anche anzi sapete ci sono alcune zone in cui il 3G ormai non c'è più neanche quello cioè viene distolto viene tolto anche quello e si passa appunto alle nuove tecnologie tutto questo apparenzi ha a che fare anche con noi perché anche noi delle radio finiramo sempre di più sul dub appunto perché dobbiamo lasciare le frequenze alla telefonia mobile che ne ha sempre più bisogno perché insomma da quel 1973 diciamo che di telefonate se ne sono fatte e se ne sono fatte veramente veramente tante 8 e 06 questo era il Crystal History di oggi mercoledì mercoledì 3 aprile Crystal History delle 8 lo sapete ogni punto ora così chiamiamo noi radiofonici arriva la canzone la canzone quella che sicuramente vi scalda il cuore che sicuramente dite ecco un po' che non la sentivo è quello il Crystal History e siamo qui per voi e anche però dopo le 8 lo sapete arrivano gli ospiti qui a Good Morning Milano noi oggi diamo il benvenuto a Nadia Nespoli buongiorno Nadia ciao e buongiorno a tutti grazie grazie dell'invito ma grazie a te di essere qui grazie mille perché oggi parliamo di oggi andiamo in galera come si chiamava c'era anche il ristorante c'è ancora in galera ecco infatti non andiamo a mangiare al ristorante quest'oggi no ma andiamo al cacere di bollate perché Nadia con Artemisia con il suo laboratorio porta dal 2012 degli importanti e interessanti laboratori all'interno del cacere di bollate giusto? sì dunque io sono ho iniziato in carcere questa questa mia avventura che parla di arte di arti visive perché disegniamo sì disegniamo facciamo storia dell'arte e poi è chiaro che io mi adeguo alle persone che si iscrivono è iniziata nel 2012 perché nel 2011 l'Accademia di Brera ha iniziato una collaborazione in area trattamentale io sono entrata grazie all'Accademia nel 2012 subito in un reparto per cui diciamo che al laboratorio Artemisia che all'inizio non si chiamava Artemisia ma era una stanzetta vabbè poi se volete vi posso anche raccontare come abbiamo iniziato e abbiamo cominciato a fare di pittura con tutte le difficoltà che ci sono state all'inizio in tutto tu sei entrata in contatto con il carcere appunto grazie all'Accademia di Brera però non credo che tu sia stata l'unica a entrare in contatto con il carcere con quei progetti dell'Accademia però hai deciso di rimanerci quando in realtà chiunque vorrebbe uscire da lì tu ci vuoi entrare questo è interessante diciamo che poi quando quando inizi lo fai con con passione ma la passione riguarda certamente l'arte e quello che stai facendo effettivamente sotto l'aspetto umano loro ti danno moltissimo perché sono una fonte inesauribile di ispirazione anche per il mio lavoro guarda in un'ultima intervista riguardo una mia personale che ho terminato nei primi mesi del del 24 mi è stato chiesto ma perché continui no? cosa ti danno? stessa domanda a cui siamo arrivati in questo momento mi danno moltissimo sotto l'aspetto umano e anche perché insomma verrebbe da pensare di progetti in caraccia ne abbiamo sentiti sempre tanti no? e fare gnameria e fare le borse sempre comunque cose che poi realizzano oggetti o comunque insomma fare andare di mano e qui invece tu gli porti proprio la storia dell'arte fai fatica a far digerire a me non so c'è nel senso a chiunque e invece c'è la coda giusto? c'è la coda per venire sì ma io ho una ventina sono arrivata anche a avere 30 iscritti sì e capisci bene e fissaltare tutti i pregiudizi e preconcetti che si possono avere su chi sta in carcere cioè questa è la cosa bella anche di quello che fai bisogna dar loro comunque una seconda opportunità e se non credessi a questa a questa cosa non entrerei tutte le settimane credi mi sono mancata davvero molto poco io di solito entro ogni martedì mattina per cui ieri per loro non è l'arte non è la pittura che gli attira ma avere un contatto con l'esterno è un filo diretto con fuori e sono io che porto questo filo diretto poi negli anni per esempio ora ho tra gli scritti un uomo ecco perché io sono al maschine ho un uomo che fuori faceva l'artista per cui capisci bene che parlare con lui è sempre per me è sempre divertente anche perché insomma ci si confronta su moltissimi argomenti c'è una connessione che già esisteva prima lui faceva l'artista fuori e quindi riesce comunque a portare avanti anche la sua la sua passione che appunto per fortuna e come dici giustamente tu a chiunque poi bisogna dare una seconda possibilità questo è importante andiamo avanti adesso con un po' di musica poi torniamo qui ieri eri lì mi dicevi e allora adesso poi quando rientriamo voglio capire ieri cosa avete fatto mi raccontami un po' cosa avete fatto ieri ok e allora andiamo con Lady Gaga con Old My End dalla cronosa sonora di Top Gun Maverick e poi torniamo qui con Nadia Nespoli a parlare di Artemisia Laboratorio il martedì mi diceva ogni tanto di solito il martedì è il giorno di solito il martedì se no che ho altri impegni ieri era martedì e quindi ieri cosa avete cioè tu sei arrivata buongiorno ciao sono Nadia cosa facciamo oggi allora ti dico proprio tutta la verità io sono arrivata molto molto presto ieri per cui intorno alle 9 10 9 perché bisogna firmare l'orario e dunque 9 e 11 erano e sono ho aperto io il laboratorio sono entrata ho fatto ho fatto dire agli agenti gruppo Artemisia perché li chiamano e scendono e poi sono sono entrata in laboratorio e dico ma non arriva nessuno stamattina come mai come mai come non mai poi hanno cominciato a scendere un paio di persone dico ma tutti gli altri dove sono c'è la partita ieri mattina sì ieri mattina c'era una partita di calcio tra di loro e dunque mi mancavano un po' di ragazzi erano i giocatori migliori sì no ma poi mi hanno anche riferito che abbiamo vinto abbiamo perché nella maggioranza insomma c'erano molti iscritti al laboratorio per cui questo è il prossimo passo è Artemisia Football Club spero di no anche perché proprio non me ne intendo e allora cosa abbiamo fatto di io intanto mentre aspettavo che arrivasse qualcuno mi sono mi sono messa io a usare dei gessetti per fare un un paesaggio perché volevo far vedere bene come come usare questa tecnica a uno dei ragazzi perché poi lui invece era alla partita comunque si è presentato più tardi ma intanto gli ho lasciato dopo la partita è venuto assolutamente si sanno che arrivo per cui e mi sono messa a fare questo lavoro per cui il tempo è passato ma tornando alle cose più serie poi abbiamo parlato di due appuntamenti che abbiamo nel mese di aprile allora premettendo che io cerco di portare fuori i loro lavori perché è importante che loro possano essere riconosciuti e ci sia una riconoscenza nei confronti del loro lavoro pittorico dunque abbiamo tre appuntamenti che sono uno un concorso di scultura che c'è a Cesano Maderno noi abbiamo con un'iscrizione la possibilità di di portare tre lavori e saranno tutti e tre a nome di Artemisia ok il messaggio che sempre in questi anni voglio che passi è lavoriamo insieme usciamo come laboratorio non come singolo si non come singolo ok non è facile credimi una factory una factory no 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 ma non è facile perché comunque hanno anche bisogno di avere una riconoscenza personale però insomma io voglio che passi il gruppo per cui abbiamo questo questo concorso di pittura a cui porterò i lavori l'undici di di aprile e poi abbiamo una bellissima mostra una collettiva per cui questi questi ragazzi entreranno a far parte di un gruppo di artisti e esporranno a Milano e dunque l'inaugurazione è il 20 aprile devo dire tutta la mente dopo vi do gli indirizzi se volete anche magari qualche spettatore o telespettatore raggiungerci e questo questo progetto pittorico si intitola il mio castello che è una cosa sì davvero grande è molto importante questa cosa del fatto che non è che si rimane poi chiusi nel laboratorio Artemisia all'interno del carcere non avrebbe minimamente senso invece tu giustamente dici no bisogna portarli fuori è interessante questa cosa del portare fuori però come fosse un unico gruppo cioè come è un unico gruppo allora spesso accade che comunque serve che un lavoro allora c'è sempre il nostro timbro laboratorio Artemisia dietro alle tele dietro al lavoro dietro alla scultura insomma c'è sempre una destinazione ma spesso può accadere che ci vuole anche il nome dell'autore non sempre è così ma è il laboratorio assolutamente che deve uscire insomma è il lavoro di tutti infatti questa cosa è molto importante è molto anche interessante dal punto di vista che magari tante singolarità invece si mettono insieme a creare un unico grande grande lavoro ma è il problema più grande ecco ricordaci bene le date proprio appunto dei prossimi appuntamenti perché è importante anche questo perché insomma sono tanti gli appuntamenti e sono tanti i momenti in cui possiamo incontrarvi me li sono portati perché è fatto bene dunque sabato 13 aprile alle 17.30 c'è la premiazione e l'inaugurazione di questa di questa di questa mostra premio di scultura di arti plastiche a Cesano Maderno all'auditorio Paolo e Davide Disarò ok che è in centro poi finita questa e anche qui abbiamo presentato tre opere queste le 11 dicevi giusto? 13 13 scusa 13 aprile io l'11 porto ah giusto l'11 li porto c'è l'allestimento c'è l'allestimento poi la mostra invece che sarà il mio castello il mio castello e sarà inaugurata il 20 di aprile e sarà esposta al pubblico il weekend del 20 e il weekend del 28 e poi il suo appuntamento ok comunque è un luogo ed è in via Savona a Milano 94 ok che giorno hai detto? 20 ah beh in pieno poi te li lascio in pieno fuori salone in pieno fuori salone capisci bene ragazzi stai parlando di cose mica cotiche come si diceva la nostra grafica il mio castello ha dato modo poi ti racconterò anche un'altra cosa molto bella al riguardo il mio castello ha dato modo a questi sono uomini io li chiamo ragazzi a questi ragazzi di tirar fuori il mondo perché capisci bene che il mio castello è qualcosa che rimanda anche a qualcosa all'interiorità alla tua mente a quello che hai lasciato a casa a quello che ti sei creato all'interno del carcere per cui è stata davvero una galoppata insomma le alte burra del castello possono essere sia protezione che invece isolamento possono essere tante tante cose e immagino come si hanno voluto fare tutte queste cose nelle bellissime opere appunto del laboratorio Artemisia andiamo avanti con un po' di musica parliamo di libertà a volte sì no insomma anche quella roba lì è una cosa molto particolare soggettiva insomma deve essere un tema anche complicato da parlare con loro a volte di libertà ma evitiamo infatti perché insomma non deve essere facile sono sempre argomenti molto molto difficili libertà i reati sono cose che insomma ti assicuro che capita chiaramente che qualcuno portasse il discorso lì ma noi parliamo d'altro parlare d'altro ma soprattutto fate tanto tanto altro e l'abbiamo visto appunto nei laboratori di Artemisia che poi abbiamo sentito anche di vari appuntamenti in cui potete trovarli torniamo a fa pochissimo un paio di canzoni e poi siamo ancora qui con voi Zucchero con Freedom Zucchero che vi ricordo arriva a Milano quest'estate è qua già tutto sold out volevo andarci non ho trovato neanche un biglietto vabbè comunque Nadia Nespoli Artemisia laboratorio d'arte all'interno del carcere di Bollate appunto ci raccontavi un po' quello che sono le loro storie e so che volevi raccontarci tante altre cose quindi raccontaci un po' appunto che cosa significa anche appunto continuare questo percorso insomma sono più di dieci anni ormai che davanti ah sì sono dodici cosa significa bene o male insomma te l'ho te l'ho riassunto è tutta una una parte una parte umana e sembrerà strano e sincera che ti arriva da queste persone mentre mentre mettono tutta questa voglia di di cambiare di uscire di fare un percorso la mettono in pittura nel disegno nella scultura insomma facciamo davvero di tutto e diventa proprio un modo per comunicare quello che effettivamente loro stanno in questo in questi momenti facendo in questi anni ti ricordo anche perché non so se ne avevamo parlato che nella maggior parte dei casi e non non chiaramente la persona di cui ti parlavo prima che faceva l'artista ma nella maggior parte dei casi questi uomini escono e non fanno più nulla di pittura sì pochi continuano mi arrivano anche messaggi del tipo mi mancate moltissimo sì io con voi perché perché è il gruppo che funziona è l'energia che passa tra le persone insomma in qualsiasi modo che le senta le metta sì 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 è quell'energia che appunto passa da una persona all'altra che crea un po' quell'energia poi che sta sopra quasi c'è quasi un'energia superiore che poi dopo a un certo punto unisce questo gruppo e chissà cos'è chissà cosa non sarà poi grazie a Dio escono per cui c'è chi fa un anno due anni chi ne fa di più chi ha fine pena mai insomma c'è proprio questo saltellare da un tempo corto a un tempo più lungo ma credimi l'impegno è davvero grande per tutti dacci un po' di coordinate anche per magari seguire quello che fate capire avete i canali come funziona potete tranquillamente seguirmi sul mio instagram Nadia Nespoli e comunque ne parlano c'è anche un ufficio stampa in carcere a Pollate per cui tutte le cose quelle un pochino importanti si conoscono anche per mezzo dei giornali insomma delle interviste come questa ma grazie Nadia del carcere si parla troppo poco è uno di quei luoghi che si cerca di non raccontare mai si cerca di non di non pensarci neanche tanto non succederà mai ultimamente se ne parla ecco si parla di solo di queste iniziative che non sono il carcere è la parte più bella del carcere ci sono dei grossi problemi che invece comunque andrebbero affrontati e è vero è vero che si insomma si tende a dimenticare è sempre qualcosa che a parte San Vittore che è in centro e te lo ritrovi comunque sono quasi sempre una rarità infatti poi sarà anche monumento secondo me prima o poi ma sono in periferia per cui sono delle costruzioni di cui non sappiamo nemmeno l'esistenza parlarne fa sempre bene non è solo questo ecco non è solo il ristorante non è solo anzi tanto di cappello non è solo il laboratorio Artemisia non è solo però insomma pensi che il carcere sia quello no c'è un sacco di sofferenza c'è il tempo che non passa mai ci sono tantissime tantissime persone sono pigiati sono non riescono a e che bollate dicono tutti insomma è un carcere è un'eccellenza sicuramente è un quattro stelle vi auguro di non trovare mai no no va bene giusto Nadia io ti ringrazio tantissimo allora per questo tuo progetto allora io ringrazio io ringrazio voi perché mi avete mi avete dato questo spazio e vabbè poi lascerò tutti i miei dati qui se volete mettervi in contatto anche per per donare materiale ecco non abbiamo affrontato questo argomento che effettivamente è molto importante perché per fare dei buoni dei capolavori serve anche del materiale come si deve eh sì però che sia un materiale artistico e quello costa tantissimo e quindi allora adesso poi dopo ci lascerai tutti i tuoi contatti li metteremo anche sul nostro sito goodmorning.milano.it nell'articolo appunto chiedo poi a Elisa la mia producer di ricordarsi di inserire tutti i contatti di Nadia così che appunto se qualcuno vuole anche dare una mano da quel punto di vista insomma benvenga così che questi capolavori rimangano tali anzi ne vengano sempre di più insomma perché insomma di fare capolavori si può fare bisogna farlo però con i giusti mezzi quindi bisogna usare materiale buono eh infatti se no non chiedereste mai uno chef di farvi un buon piatto con gli ingrati scadenti e quindi anche l'artista anche l'artista ovviamente deve essere così grazie davvero grazie a voi grazie salutaci il gruppo Artemisia tutto il gruppo unito che adesso martedì prossimo opereranno ancora faranno cose eh sì dobbiamo martedì prossimo c'è il ritiro della scultura per cui dobbiamo impacchettare mi raccomando quindi bisogna lavorare dai 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 così poi potremo vedere appunto le vostre opere esposte nelle varie location appunto che ci ha raccontato anche fuori salone quindi pensate quanto è importante grazie mille Nadia buona giornata grazie a voi ciao andiamo avanti con la musica loro sono i pinguini tattici nucleari alle 8.33 qui su Crystal Radio Good Morning Milano e noi torniamo fra poco è sempre qua in diretta e questa era Giorgia alle 8.42 qui su Crystal Radio andiamo avanti con le notizie perché c'è c'è la notizione su tutti i giornali sta campeggiando no non si è sentita no volevo fare lo sketch e non si è sentito aspetta ve la faccio risentire eccola annunciazione 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 come dice l'arena e sì perché perché è nata sono nati festa in cima al pirellone per la nascita dei due falchi pellegrini e sì e Fontana celebra il nido decennale di Giulia e Gio eh sì sono i primi pulli che non saranno i pulli saranno i pulcini dei falchi credo del 2024 due delle quattro uova si sono schiuse a Pasquetta non male l'uovo che si dopo di Pasqua proprio nei prossimi giorni poi appunto il tottonomi per battezzarli ebbene sì lo sapete sopra il pirellone in cima c'è un zona in cui i falchi pellegrini di passaggio sulla città depongono le uova ormai da dieci anni che c'è questo nido con tanto di webcam che lo riprende giorno e notte e sono nati i pulli che credo siano quindi i pulcini appunto piccini bianchi ed arruffati il becco aperto a reclamare il cibo non hanno ancora un nome per il momento non se ne conosce ancora il sesso ma sul web già si festeggia la loro nascita sono nati i primi due pulli dell'anno di giulia e giù i due falchi pellegrini che vivono in cima al palazzo pirelli ebbene sì ecco quindi abbiamo due nuovi milanesi che sono arrivati in città benissimo mi piace perché questa notizia è praticamente su tutti i giornali come fosse questo è il bello che ogni tanto tra tutto lo schifo che leggiamo in giro tra tutte le disgrazie che ci vengono propinate e io scusate se adesso apro una parentesi personale non so se avete notato che non vi leggo mai di disgrazie che non vi leggo mai di cronaca nera avete notato questa cosa o no ecco lo faccio apposta e non è che lo faccio apposta perché non credo che siano notizie uno valide due che cambino qualcosa se non se al massimo farci capire che questo mondo è peggio di quello che è perché sappiamo che questo mondo non è proprio tutto rosa e fiori però non è neanche tutta quella schifezza che ci viene raccontato dai giornali e quindi io evito di raccontarvi quelle storie invece sono ben contento di raccontarvi quando ci sono storie più belle anche magari di sofferenza insomma l'ospite di oggi ci ha raccontato anche storie insomma non è proprio una passeggiata quello che avviene all'interno delle carceri però lo racconto molto volentieri vi faccio vedere come si può anche fare del bene e farlo bene soprattutto che è quello importante anche questa notizia qui che può sembrare un po' peregrina o pellegrina in questo caso questa notizia non lo è invece perché è in una città caotica una città che va a 300 all'ora una città che difficilmente alza il naso e guarda in su bene sulle nostre teste due farche pellegrini da dieci anni decidono di fare le uova su quello che era il palazzo più alto della nostra città fino a tempo fa adesso non vuole più però è secondo me un bel simbolo di come in teoria dovremmo vivere cioè si va bene lavorare va bene correre va bene le tecnologie va bene tutto quello che volete ma dall'altra parte anche ricordarci che siamo parte di un grande mondo parte di un ecosistema di cui noi siamo solo una piccolissima fetta e ci sono tutti gli altri tra cui anche in questo caso ad esempio i due falchi pellegrini Giulia e Gio Giulia e Giovanni non so perché Gio comunque Giulia e Gio che da dieci anni fanno le loro uova sul suo sul tetto sul nido sul tetto all'ultimo piano del palazzo Pirelli grazie Giulia e Gio per aver scelto Milano come vostra residenza la bella Lady Marmalade 8 e 49 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Milano città grande e attrattiva per moltissimi turisti che vanno anche nei vari musei della città perché vi dico questo perché leggiamo da Repubblica Milano una bellissima articolo una bella polemicuccia che non potevamo mancarci perché succede questo il museo del novecento non è a misura di bambini il post di una mamma accende la polemica social la gente gli rispondi se pensi di farli mangiare e bere dentro nelle sale però ti sbagli eh sì perché la visita al museo nel giorno di Pasqua con i due figli di 5 anni e due anni e mezzo non è andata bene per questa famiglia che dice sempre marcata stretta dagli addetti è stato stressante ebbene sì un post che qualcuno ha messo cioè una signora ha messo sul gruppo facebook Mami Club ve lo farei chiudere solo per il nome cioè vi dico già oggi sono molto cattivo su questa cosa ah guardate a me è proprio un interesse sta roba e comunque questo post finito sul gruppo Mami Club da una mamma che ha voluto condividere il racconto di una visita stressante ci spiace diceva la signora vissuta con la sua famiglia nel giorno di Pasqua o Pasqua è Pasquetta sarà stato va bene nel giorno di Pasqua dice va bene nel giorno di Pasqua cosa dice il post questa mattina abbiamo visitato il museo due adulti e due bimbi di 5 e 2 anni e mezzo appena arrivate alla prima panchina della prima sala così c'è scritto il bambino dice mamma ho fame eh arrangiati gli avrei risposto io invece no seduti che vi do il succo e due taralli ma se in un museo che succo e taralli dai cioè ma daglielo prima daglielo domanda nel senso poi ragazzi i bambini che hanno fame non muoiono di fame anche se non mangiano all'istante quando hanno fame non capisco dopodiché io credo che andare al museo del 900 con un bambino di 2 anni e mezzo io capisco che non sai dove metto è vero cioè il problema non è il museo il problema è quello che c'è fuori dal museo il problema è che tu non puoi andare a un museo con un bambino di 2 anni e mezzo non puoi dovrebbe essere illegale va bene non posso dire la dico grossa non puoi ma anche perché non te lo godi tu poi 2 anni e mezzo cosa puoi capire del museo del 900 niente anche a 5 anni ho l'idea che forse mi fatica capirlo però vabbè non lo so proviamo a portarlo boh ma anche cioè si lamenta perché appunto dice no mi hanno detto di cacciare dicendo che non potevano mangiare via non potevano mangiare lì e quindi ci hanno detto che non si poteva mangiare i bambini poi hanno trovato un modo comunque dice anche un mese fa eravamo agli uffizi e ci hanno fatto mangiare alla National Gallery di Londra idem regole diverse ma può essere dopodiché signora li porti però anche a un parchetto questi pori bambini 2 anni e mezzo gli stanno facendo fare tutto il giro dei musei di sto mondo pori cristi nel senso no ma benissimo poi però se da grandi non amano l'arte io qualche domanda me la farei mi dovrebbe da dire la cosa che mi fa più ridere però di questa storia è che il post dice non c'è niente pensato per intrattenere i bambini durante il percorso molti musei hanno anche aree giochi per colorare benissimo però c'è no io non voglio queste aree colorate per i bambini non me ne frega niente posso dire che non me ne frega niente di sti bambini che vogliono venire al museo per forza statevene a casa avete fatto i figli è peggio per voi mi spiace dovevate pensarci prima va bene vi piace l'arte lasciate da casa con il marito andate a vedervi il museo vi piace l'arte insieme al marito trovate una babysitter poi ripeto il problema è fuori non è sui musei il problema è che una famiglia con due figli che invece li ha voluti fare e sono contento che li abbiano fatti o che voglia e che voglia anche nutrire la propria anima il proprio spirito di arte non può trovare una modalità per lasciare i figli da qualche parte andare a vedere il museo però scusate mi sono inalberato perché questi gruppi Mami Club adesso so che mi arriverà di tutto però lo so scusate però non possiamo pensare che il mondo sia fatto solo a misura di bambino anche perché poi sulle cose importanti non è fatto a misura di bambino ebbene sì 8 e 56 minuti ed è arrivata la fine di questa puntata abbiamo dovuto tagliare anche Mariposa di Fiorella Mannoia mi spiace che poi vi spiace per la Mannoia e Mariposa ma mai una volta che vi spiace quando tagliano la sigla finale di Striscia la Notizia invece quella viene sempre tagliata povera sigla finale di Striscia la Notizia comunque dopo di noi invece non verrà tagliato anzi verrà sicuramente osannato da tutte le folle il grande Ambrogio Curti con senti questa chissà cosa ci farà sentire quest'oggi noi presidono domani lo sapete siamo sempre qua per raccontarvi un po' tutto quello che succede a Milano io vi ringrazio anche per tanti whatsapp che sono arrivati al 3317853555 grazie a tutti per averci ascoltato e soprattutto come sempre grazie della vostra preziosissima compagnia ore 7 mettete la sveglia domani mattina perché siamo qua ancora con una nuova puntata di Good Morning Milano come sempre per raccontarvi tutto quello che succede qui in città buona giornata a tutti ciao a domani statemi bene ciao 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 a domani